ciao a tutti venuti a questo video di metti su blotus oggi vi porto la top ten delle reprince di universi spion di fallout per ricominciare vi torna scena mi piace commentare iscrivervi al canale soprattutto ad abbonarvi che è la maniera più direttamente sostenerci e poi vi ricordo anche lo sponsor nostro canale cioè fantasiastore.it negozi più forniti italia soprattutto più rapido nello spedire e con noi avete il codice sconto lo sus 5 guida anche il 5 per cento di sconto quindi più di così che volete allora sarà una top ten dal punto di vista di investimento che compro le carte le tengo lì aumentano perché anzi probabilmente sono carte che faranno il contrario e quindi infatti il processo inverso saranno carte a tenere d'occhio perché magari calan di prezzo le stavate cercando e quindi riuscite a trovare una versione particolare o comunque quello che vi pare di queste carte qui ma a un'occasione migliore quindi appunto 30 le d'occhio allora cominciamo la prima che vi presento è in realtà non è da sola in realtà è un ciclo di terra sulle filtro di odissea o le filtro di odissea sono sempre state ristampate ma solo praticamente i mazzi commander infatti si possono poi trovare uno per nei vari mazzi commander da qua fino a 2000 praticamente sono carte un po antiquate perché sono terre che di per sé non aggiungono umana e hanno per forza bisogno di supporto di un'altra terra per funzionare quindi ogni tanto questo può creare dei problemi ma per il resto sono carine all'altro problema che hanno ovviamente che filtrano solo in un modo cioè vedete questa qua per esempio la dimir vi da solo blu nero non mi può dare blu blu o nero nero e quindi rispetto alle filtro nuove quelle appunto di shadow muro sono molto brutte ma comunque sono anche queste abbastanza ricercate soprattutto per chi cerca di costruire una vanabase o una budget quindi che non non si può permetterle dual allora perché ve le consiglio che sono molto costose di tenerle d'occhio perché magari volete una versione particolare noterete che la stampate varie volte magari uno pro lavoro la vuole una versione una versione proprio specifica a parte le originali le altre come costano poco però magari sono un po brutte non vi piacciono dipende adesso loro continuano proporcele e vedete se c'è una versione full art adesso disponibile poi di scuola adesso con uscire a fallout quindi meno una settimana sarà disponibile e quindi potete anche magari cogliere l'occasione per fare un bel settino per commander di uno di uno per di tutte quante magari extended se volete l'originale che sono un capitolo a parte dovete comunque fare occhio e tenetele comunque d'occhio perché magari nelle prime settimane hanno un calo verso il basso l'originale noterete che rispetto alle altre hanno un prezzo nettamente più alto ma anche perché trovarle in buone condizioni di odissea sono carte del 2002 se non sbaglio sì 2001 anzi 2001 invece trovarle in buone condizioni è praticamente impossibile e quindi ci sta che pagate un premium per avere le buone condizioni però però comunque se la spirale di prezzo di queste carte verso il basso anche l'originale un minimo possono essere toccate poi magari le prendete non proprio buonissima ma decente e siete contenti la seconda carta con ottima riprinta il tale stracca in tale strada una carta che nonostante abbia perso gioco in modern perché non ho visto giocato come prima un periodo che era giocatissimo che mente tanti mazzi poi è passato più delle side di alcuni dei specifici ora è praticamente sparito ma è una carta che ha sempre avuto un buon valore noterete che comunque è abbastanza ricercato soprattutto è la carta che appunto la gente cerca perché molto molto forte da sola può vincere game nella carta comunque nei mazzi land non si trova risposta in fretta vince da sola se comunque si trova risposta in fretta ci permette magari di fare più due perché con una fecce e doppia trigger di landfall fa sì che abbiamo due clue quindi peschiamo due carte e ne abbiamo persa magari solo una che viene distrutto e così via quindi carta davvero molto molto forte sono contento di vederla qua di nuovo disponibile tra l'altro versione sembra anche carina perché anche questa ha più versione di normale e c'è anche poi questa qua che era vecchia ma di fallout c'era la versione stessa potete continuano proporcelo ma nonostante continuino proporcelo il prezzo bene o male rimane abbastanza alto ma perché perché le reprint dell'hanno fatte seriamente cioè questo è il set in cui uscito cioè appunto shadow rei over in strada e quindi era trovabile questo non conta questo è solo online non esiste questo è un commander questo è un commander questo special guest e questo è un commander prima te che in realtà una vera ristampa questa carta non ce l'ha mai avuta non ce l'ha mai avuta e quindi in realtà come il discorso un po di prima delle terre di odissea non avendo mai avuto una ristampa seria dentro un set che ne apri tanti casserò la sposta sposta sì quindi anche questo ottimo reprint poi black market alla black market apri nuovo una piccola polemica allora siamo contento che abbiano messa perché una carta che soprattutto per commander è molto ricercata ovviamente multiplayer un pochino più friendly competitivo un po meno ma tant'è sono un po incavolato perché l'hanno messa in un secret layer e questo sì che lei cos'è inizio mese hanno spoilerato inizio mese scorso di febbraio quello che era riprendete ripescare il video comunque black market avevano appena ficcato un secret player capite che da fastidio perché dico cazzo mi sono comprato il secret layer ok questo è un black market super ultra particolare a me piace tantissimo lo trovo fighissimo c'è invece magari chi un layout del genere lo odia e quindi è un discorso a parte però scazza perché l'hai appena messo il secret layer manco il mese dopo già me lo riproponi pan out da ora per una persona che vuole semplicemente un black market e magari si è comprato questo secret layer perché tra le altre cose c'era black market può essere fastidioso ma questa cosa la vendetta mille volte ogni volta lo fanno con i ragazzi davvero quando comprate un secret layer fate anche occhio questa cosa perché tanto oramai sappiamo perfettamente che fanno sì che le manco il mese dopo prossimo manco una settimana e già mi propongono il reprint di quella carta da qualche parte e quindi è davvero molto molto fastidioso poi l'ital scheme l'ital scheme anche questa è una carta molto interessante perché l'ho messo di nuovo qua perché stessa storia delle altre in realtà un pochino peggio a parte di black market dal due precedenti cioè questione di trovarlo questa è una carta che non vale tantissimi soldi a parte alcune versioni che sono più costose per esempio la versione dove era questa qua la versione nuca penna promo e altre ma comunque un minimo di prezzo ce l'ha soprattutto se consideriamo la versione extended normale allora perché vi dico tenerla d'occhio perché una carta che è molto molto interessante i mazzi a creature la giocano volentieri col nero perché era un val con convo quindi può pagare la praticamente zero e più fa con il che è fortissimo c'è ogni creatura che ha convocato con il va davvero forte perché l'ho messa perché la carta che noterete che dal primo reprint fino adesso non è mai stata messa in un 7 sempre solo in commande vedete il team commander questa vabbè era nuca penna commander con sempre nuca prenda e questa è qua di nuovo commander quindi capite che in realtà reprint seria questa carta non ce l'ha mai avuta non ha mai avuto neanche una stampa seria perché la prima stampa sta dentro un commander in 1 per e quindi non non è facile da trovare le altre trovavi nel collector booster ok però voglio di anche lì non è proprio agile soprattutto per il collector ma che voleva trovare vola trovare altro e quindi per questo vi dico tenerla d'occhio poi lightning grace anche questa è una carta che nonostante continui a essere stampata continua sempre ad avere domanda sempre ad avere richiesta quindi questo è l'ennesimo lightning grace versione caruccia che potete trovarvi tra l'altro questo è molto figo il disegno molto bello con un tizio che corre effettivamente e con sisti valoni molto bella di nuovo se l'ha stato cercando è l'occasione giusta oramai questa dico un po così perché allora c'è gente che sta si sta approcciando commander c'è gente che magari non compri per costruiti quindi c'è sempre la persona che magari ha bisogno anche se non si giustificherebbe il prezzo però una carta questa praticamente abbiamo tutti perché tutti oramai nel periodi moderni abbiamo comprato almeno un commander per costruito e questa ce la ficcano dentro come il pane ma nonostante questo la insomma la trovia la potete tranquillamente ancora cercare io per esempio fino a qualche anno fa questi qua avevano praticamente zero non avevo più perché non ho mai giocato con commander praticamente non mi è mai interessata non prendevo i precostruiti e quindi non l'avevo poi è stato comprare qualche per costruito gioco commander quindi insomma adesso sono fin troppi però di nuovo è perché adesso mi sono interessate se no quindi un'occasione protenerli poi qua passiamo invece a farewell per quella parte di quelle non trovabili dentro i commander questa cosa dentro le collector booster di fallout non farà calare il prezzo granché questa perché è una reprint molto rara da trovare difficile ma ve la metto perché comunque questa è la vratta definitiva è noteretta che praticamente se a un prezzo effettivamente abbastanza elevato per essere una vratta rara di un set recente a parte le versioni fighe comunque una rara che gira sui 10 euro circa se state cercando una versione caruccia tra l'altro molto particolare perché c'è il volt boy è la vostra occasione però probabilmente sarà abbastanza costosa se no comunque il fatto che senza messa di nuovo non farà calare perché versione pro mostra figa c'è da difficile trovare non farà calare troppo il prezzo delle altre ma magari nella prima settimana quella bottina di 12 euro qualcosina ve la toglie quindi approfittatene ravages of war finalmente reprint è una carta che è stata messa prima in porta altri kingdoms ed è armageddon praticamente fa l'identica cosa ma anziché che massimo che donna raggiungere per chi gioca commander è molto importante per così puoi giocarne uno in più che c'è da dire su questa carta niente questo qua non è un vero reprint nel senso che è di nuovo questo qua è volt boy quindi collector edition ma sbustato e stradaro ok però però attenzione ragazzi perché ve l'ho messa per questo vuol dire l'inizio spesso da wizard quando poi le ficca la prima volta da qualche parte inizia a riprintarla ristamparle a gogo e quindi primo dopo ci ritroviamo invasi magari da ravage of war ce lo troviamo in altri set in altri commander in altri giri quindi poi questa carta magari con la di prezzo infatti poi spesso queste quali porta alla prima ristampa poi crollano l'unica che magari rimane un po alta l'originale sì perché perché l'originale la vecchia vabbè mantiene un po lo storico del prezzo però qua bisogna fare occhio ragazzi finalmente la vostra occasione per comprarlo magari si bisogna vedere un attimo che prezzi avranno queste quali fallout perché si sta parlando e ve lo dico anche adesso di una carenza di collector di questo set quindi bisogna vedere quante si riuscirà ad aprire e se poi magari la wizard sopprirà questa carenza ristampando il secondo momento bisogna vedere un attimo questa questione qua wasteland anche questa stessa cosa delle altre ve la metto perché ovviamente magari questa è particolarmente carina mi piace molto con il volt boy dentro appunto sto deserto radioattivo molto molto bello mi piace ovviamente dovete essere un minimo fan che sennò non c'è deve piacervi d'arte sennò 0 c'è da dire che ovviamente l'avano permesso il signor di anelli in versione stra mega che forse anche più c'è più bella anche se non sembra per niente una wasteland è più bella niente cosa qua appunto ve lo consigliavo se dovete ritrovarvi le classiche wasteland può essere un buon momento e ormai le west le le fanno solo più promo e quindi calano praticamente sempre di prezzo per un po e poi torno alte o comunque classica cosa qualche uretto e poi risalire le ultime due sono delle carte che sembrano così a prima vista presento assieme morbido per spesso giocato assieme morbido opportunist e pitiless plunderer allora sono delle carte che di persone diciamo sono dell'uncomo del cavolo fanno schifo e marghe senza un dell'uncomo che valgono i soldi valgono 2 3 euro cioè mkm ok qua mette un po più basso ma comunque ci siamo capiti cioè ragazzi guardate queste cose dell'uncomo che la gente cerca perché sono molto forti dei mazzi a sacrifice e infatti io ce le ho perché le gioco in meren commander multiplayer sono molto giocate molto forti questo tappo 3 1 3 che ogni volta una creatura muore peschi trigger massimo una volta per turno però il multiplayer tra che le sacrifichi tu tra che gli altri si ammazzano tra di loro le creature tu ci peschi tantissimo piglie splendero ricorda una creatura che controlli muore tu crei un tesoro quindi rischi anche magari fare alcune combo da mano infinito comunque tanto value non a caso questo comunque l'ha messo come special guest ci sarà un motivo se questo l'ho messo con special guest queste carte sono estremamente ricercate e non accendono calare di prezzo perché sono super specifiche e super forti dei mazzi aristocrats auto sacrifice e quindi queste sono davvero ottime davvero ottime quindi se la stai cercando e avete bisogno di completare i vostri mazzi aristocrats comprate il commander che le contiene perché secondo mi pare l'abbiano messo assieme sono ugualato le liste ma sicuramente sì quindi ragazzi queste qua sono da prendere se voi state montando quei mazzi perché almeno così una volta sola vi siete tolto entrambe e poi magari se vi comprate anche quel deck magari c'è anche altra roba che vi serve fate un 3 per 1 detto questo spero questo video vi sia piaciuto fate sapere nei commenti cosa ne pensate quali altri print avete trovato interessanti quali altre carte non vedete l'ora di trovare che adesso finalmente saranno più trovabili e noi ci vediamo al prossimo video come sempre ciao ciao infatti bravi grazie a tutti